Quando non ci fermiamo ad ascoltare la voce del Signore, ci allontaniamo da Lui e il nostro cuore si indurisce, diventiamo cattolici atei, lo ha sottolineato Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando le parole del Signore riferite dal profeta Geremia nella prima lettura, che si lamenta del popolo che non ascolta la sua parola e gli volta le spalle. Se non si ascolta la voce del Signore, ha spiegato il Papa, si ascoltano altre voci, quelle degli idoli offerti dalla mondanità, e il cuore diventa più duro, incapace di ricevere. E queste due cose, non ascoltare la parola di Dio e il cuore indurito, chiuso in se stesso, fanno perdere la fedeltà. Si perde il senso della fedeltà. Dice la prima lettura, il Signore lì, la fedeltà è sparita e diventiamo cattolici infedeli, cattolici pagani, o, più brutto ancora, cattolici attiei, perché non abbiamo un riferimento di amore al Dio vivente. Non ascoltare e voltare le spalle che ci fa indurire il cuore, ci porta su quella strada della fede, della infedeltà. Grazie. 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 Grazie.